Salve ragazzuoli, bentornati sul canale, siamo in un nuovo episodio, io sono appena tornato dal lavoro e giustamente non poteva non mancare il nostro gatto macchia che miagola, lo sentite? Sì, lo so, sono anni che non sentivate macchia miagolare e effettivamente c'è ancora, vedi? E quando registro lui si emoziona. Vabbè, non ce ne frega niente, quindi, cosa avevamo fatto nell'ultima puntata? Non mi ricordo, ho una scala in mano, quindi suppongo, stavamo facendo il magazzino, aspettate che controllo, perché veramente non mi ricordo Sì, stavo facendo il magazzino, ok, quindi oggi cercheremo di finire il magazzino Vado a prendere un po' di legno perché mi sembra che l'avessi finito e ci vediamo tra un po', non vi porto in giro a spacchettare legno, a meno che non mi viene in mente qualcosa da dirvi, chi lo sa? Sì, ovviamente sarebbe il caso, uno, di posare tutta questa pietra che non mi serve assolutamente a nulla Due, forse dovrei farmi un'altra ascia Decisamente sì, quindi scraffettiamo un po' e prendiamoci anche dei lingotti di ferro Ok, mi farei anche un altro piccone Effettivamente questa costruzione del magazzino mi sta un po', come dire, mettendo alla prova Perché sto finendo le risorse Guarda, guarda, io non è che ho tutto sto ferro da spendere Va bene E intanto è uscito un altro snapshot Questo è il 24B05B, non ho idea di cosa faccia Qualcosa farà Poi un giorno vedremo tutte queste cose Magari se lo sapete voi scrivetelo nei commenti, così lo leggiamo Però ho notato che ho delle patate Allora io direi, prima di andarci a buttare lì, a scavare, a prendere legno e a fare cose Forse, e sottolineo forse Sarebbe il caso di mettere un po' di patate a crescere Visto che comunque non ho più cibo E effettivamente le mucchette che ho ammazzato me le sono mangiate tutte Queste vorrei non ammazzarle, almeno non nell'immediato Quindi io direi di mettere un po' di patate a crescere qua Perché no, secondo me è il posto giusto Un isolotto molto a portata di mano Mi piace l'idea di avere una base open space Che non è necessariamente rintanata in un buco, in una costruzione Non l'avevo mai fatto, almeno non mi ricordo Secondo me è una cosa abbastanza carina da fare Quindi piantiamoci le nostre patate qui dentro Eh, sono finite già le patate Ammazza, ero proprio ricco, ho sfondato Il grano, come vedete, non si è mosso di una virgola Va bene, non fa niente Mi mangerò carne di zombie No, aspetta, aspetta Fermi tutti Dammi la spada Voglio dire, sto vicino l'acqua Vuoi che non vado a caccia di... Ma dove cazzerò l'estate? Ok Vado un attimo a pesca Se, magari... Ma perché io non riesco mai a beccare questa gente strana? Vabbè, ammazzo questo, ammazzo questo Ok, mi prendo un po' di pesce Mi cuocio il pesce Che male non fa Sta roba una volta doveva galleggiare Qua ce ne sono altri tre E quindi, signori Lo so che è brutta questa cosa Però io devo mangiare Dove cazzerò l'estate? Vabbè, quelli magari Secondo me si sono guadagnati la libertà Li lasciamo vivere tranquillamente Tu no Tu ormai ti ho beccato E quindi ti secco Ma guarda quanti ce ne stanno Vabbè, io faccio un po' di pesca Cioè, ragazzi, ce ne stanno tantissimi Ma qua veramente cibo gratis Proprio così Come se niente fosse Guarda questo come nota felice 12 pescetti Ottimo Adesso ce li andiamo pure a cucinare Allora, vorrei fare anche uno smoker Ma lo smoker si fa con legno grezzo Che non ho Quindi, vabbè, niente Li cuciniamo qua, questi pescetti Ok Aspettiamo che i pescetti siano cotti E andiamo a prendere un po' di legno Che poi, signori C'avevo pure le carote Me l'ho scordato E che fai? Non le pianti le carote? Certo che le pianto Anche perché Con le carote E l'oro Io mi faccio le carote d'oro Per il momento non ho una farm d'oro Poi provvederemo Non mi sfasciare le cose Che ho appena piantato Fattiamo questa roba qua così Ecco, magari se ci salto sopra Non è successo niente Pensavo si sfasciasse tutto Invece no Ok Uh, abbiamo il mercante vagabondo Come si chiamava questo coso? Il villager errante Il wandering trader Allora, che cosa mi dà questo wandering trade? Un secchio d'acqua per due cose Non me ne frega niente Questo che cos'è? Le barbabietole Te le mangi di tu e tua sorella Mi fanno schifo Unbreaking addirittura Un pack e die Questo potrebbe essere interessante Non adesso Vabbè, lo lasciamo libero di gironzolare la nostra base Andiamoci a prendere il pescetto E andiamo a prendere un po' di legna Ragazzuoli, guardate cosa ho trovato Un cavallo Stavo prendendo legno E c'è lui Molto carino Come lo addomestico io sto tipo? Ho visto anche un creeper Porca miseria E due creeper Ok, niente Ho scherzato ragazzi Niente Ci ho provato Ma purtroppo Ok Tentiamo la sorte Tentiamo tantissimo la sorte Ci siamo riusciti Dicevo Voleva addomesticare questo cavallo Ma c'è un po' troppa gente in giro per il mondo Vediamo se ci riusciamo Senti, vieni un attimino qua Prima che ci seccano malissimo È per cattiveria Nel mentre che trovo una sella Ti addome... Due secondi Guarda, è una cosa veloce Dove cazzo la sei maledetto? Ok, abbiamo addomesticato Perfetto Ovviamente non posso legarlo Forse sì Non è vero che non posso legarlo Cosa c'è vicino alla nostra base Di molto interessante? C'era quel tizio che porta il lama a spasso Il wandering Qualcosa Quindi se io in modo molto simpatico lo secco Vabbè qua sta succedendo il devasto Devo andare a dormire ragazzi Per forza Ora c'è pure uno scheletro Vabbè Diciamo che mi metto a dormire un attimo Ok, dicevamo Da qualche parte qui C'è il wandering Dove sei? Eh, lo lì Perfetto Ora, se io con molta calma Lo secco Lo so che non è una cosa bella da fare Però Qualcuno deve pur farla questa cosa Voglio solamente Perfetto Volevo solo questi Ecco qua E non mi sputacchiate maledetti schifi Ok Oh, con calma Non mi stanno inseguendo No, mica Sì, mi stanno inseguendo Sti cazzi Vabbè Allora, siamo presi queste qua Che sono le lid E andiamo a prenderci quel cavallo Che abbiamo addomesticato Prima che se ne scappa O che muore O che gli succede qualcosa E lo portiamo più vicino Alla nostra base Dove cavolo Stava lì su Lo so Dovevo andarmi a prendere la legna Ci sono andato a prendermi un po' di legna Poi mi sono perso a fare altre cose Perché Minecraft è così Allora Dove stava? Da qualche parte qua Eccolo qua Cavallo curioso Vieni con me Vieni dai Mi segue? Cioè ti segue il cavallo se lo trascini Sì? Sì Ti segue Ok Non mi ricordavo E quello sta ancora a sputacchiarmi addosso Ma Però che cazzo C'è voglio dire Amico Cavallo Datti una mossa Gli è passata Gli è passata Dai Non serva ancora così a lungo T'è passata vero? Mi stia a segui tu Ma i lama non si possono cavalcare Da quello che mi ricordo Cioè Gli puoi mettere la sella Ci puoi sali sopra Però niente Basta Poi sono Non sono guidabili Allora cavallo Vedi non finì in un buco Gentilmente Vieni con me Venga con me ragazzo Bravissimo Bravissimo Ora io ti Aspetto un attimo Dai qua fermo Vado a fare un attimo Una cosa al volo Con un po' di legno Che c'ho Ok Una staccionata Questo deve stare sempre attivo Perché non mi ricordo Una pippa Andiamo qua Questo lo mettiamo qua Perfetto Facciamo così E così Ho la cavallo Legato Ok Allora posso tornare A prendere Dell'altra legna Questi alberi di ciliegio Sono belli Ma sono poco scomodi Da rompere Perché sono tutti articolati Cioè sono peggio Degli alberi della giungla Mamma mia Una roba incredibile Ma erano gli alberi Della giungla? No Non erano gli alberi Della giungla Quelli che volevo dire Era un altro tipo di albero Che non mi ricordo Quello Non mi ricordo Ok confermo Sti alberi sono veramente Una rottura di palle Da sfasciare E lì abbiamo Il covo dei pillager Sarebbe il caso Di farci una capatina? Potremmo farci una capatina Non è la cosa Più intelligente da fare Lo so perché Voglio dire Non è che sto Chissà messo Quanto bene Però In teoria Passando di qua Magari non mi vedo Non è vero mai Quelli già Già hanno sentito la puzza Che sono stato vicino A quei lama Che mi hanno sputacchiato Sano sano Quindi Allora Che cosa c'è qua Di bello da vedere Questi già mi hanno visto Vedi Guarda di mettere qua Questo sta caricando La sua balestra Ha sparato Ma pure è beccato Ovviamente Ok Non era Non era complicato Ammazzarlo dai Cos'è che c'era di bello Qui dentro Una ceste Mi pare Lì su E ma quanti ne siete? Non vorrei morirci male Sono sincero Devo sfruttare L'effetto Ecco qua L'effetto che praticamente Si sparano tra di loro Più o meno Sparatevi tra di loro Sparatevi Gravi Questo lo secco male Così E c'era pure uno zombie rompiballe Ovviamente Perché non poteva mancare Fammi da scudo ragazzo Niente È morto prima Mori Malissimo Per favore Grazie Allora Sta calando la notte Forse non è un'idea fantastica Restare qua Devo dirvi la verità Però Ci provo un altro po' Dai Allora Ne abbiamo seccati un bel po' In teoria Non ce ne dovrebbero essere rimasti tantissimi A meno che questi qua non risponano ogni due secondi Forse era proprio così che funzionava Non mi ricordo Sta facendo sempre più notte E io mi ci infilerei di prepotenza qui dentro Se riesco a trovare l'ingresso Ecco l'ingresso Anche Macchia si sta emozionando Attenzione C'è qualcuno qua su? Nessuno Perfetto Qua su c'è qualcuno? No Cosa troveremo? Cosa troveremo? Questo di succulento Allora Un po' di legno Oh Ci sono È vero Qua si possono fare armature Un quick charge Tre che non me ne faccio niente nella vita Però va bene Vabbè Abbiamo preso un po' di cose Mi prenderei anche sta cesta Posso? Guarda Sti fiorellini hanno rotto le balle Sinceramente Eh Sì Mi prenderei anche questa cesta Questo lo lascio qua E adesso me ne dovrei tornare a casa In teoria Ora Per tornarmene a casa Ci sono due condizioni Da realizzare Uno È riuscire a non morire Due È trovare la strada di casa Entrambe le condizioni Sono molto complicate da fare Devo ammetterlo Qua abbiamo Sti gecolante Con sta roba dentro Va bene Lì che cosa c'è? Sicuramente sarà della lava Allora Forse casa mia Potrebbe essere da questa parte Allora Non è una buona idea Andare in giro di notte Però È la seconda o terza volta Che io continuo ad andare in giro di notte Perché lo sto facendo Secondo voi Pazzia? Scemaria? Non lo so Allora Casa mia Dovrebbe stare Sento delle frecce terribili Quanto cerco anche di mangiare Saltello per Rincoglionire nemici Buttarmi nel canyon Non è una buona idea Non lo so Dove Forse di qua Era un coso nano? Sì Ma da quanto li odio questi? Cioè voi non potete capire Quanto schifo sti cosi nani maledetti? Ok forse è qui Sì Ho visto la mia bellissima coltivazione mista di qualcosa Quello mi sta ancora seguendo Io qua ci posso morire malissimo Mia ci potevo morire malissimo Ma è ancora vivo? Ma che cosa sei? Cioè amico mio Sei cascato da un'altezza considerevole Dovevi essere spiaccicato al suolo Invece no È là Bello felice Ok Morirai bruciato Via Ok Abbiamo un po' di legno Io intanto metterei pure a smeltare questo ferro Che poi ce ne avevo pure dell'altro Quindi non siamo messi per niente male a ferro E mi devo liberare un po' l'inventario di cose Tipo cose che non mi servono Sono tutte queste qua Le carote al momento non mi servono Le patate non mi servono Tutta sta roba non mi serve a niente Queste mi serviranno Iniziamo a scraftare il legno Oh là Così Vediamo quante ceste riusciamo a fare C'è la scorciatura per le ceste per favore C'ho voglia di farmela a mano Dove sta? Eccola qua Si faceva così Allora Signori Attenzione Abbiamo 64 Cesto Cioè 32 double chest In teoria Dovrebbero essere sufficienti Penso Però nel dubbio Ne faccio un altro po' Tanto le ceste non sono mai abbastanza Ok Allora scendiamo giù Però Prima di scendere giù Voglio prendere un altro stone cutter Eccolo qua Che ce l'avevamo Questo ce l'abbiamo Mi porterei anche del legno Che ce l'ho Il ferro ce l'ho Non mi serve nient'altro In teoria no Allora Qui se non mi ricordo male Ci possiamo buttare Vero? Si Ci buttiamo Proprio di cattiveria E torniamo al nostro magazzino Che stava prendendo forma Infatti è molto carino Allora io adesso continuerò a scavare Magari mettendo qualche torcia Qui e là Visto che non si vede più nulla Sarebbe anche il caso Bene Continuo a scavare Faccio un altro po' di cesto E vediamo come viene Allora signori Io penso che questo magazzino Potrebbe anche andare bene Alla fine ci abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 per 8 48 doppie cesto Secondo me Insomma dovrebbero bastare Penso Chi mi sta uccidendo? Che cosa vuoi? Ok Perfetto Allora I gradini in questo modo Ci piacciono? No Assolutamente no Quindi devo cambiare Intanto rompo un altro po' di terra Faccio un po' di cose Vediamo come viene Ecco in questo modo Dovrebbe venire bene Quindi io scendo di un gradino E continuo a scavare così dritto E poi sistemiamo tutto Allora ho sfasciato un po' di cose Mi inizia a piacere Il problema è che non ho dei blocchi Da costruzione carini Per il momento ho messo Ste scalette fatte in Che materiale è questo? Andesite Che da sempre mi fa abbastanza cagare Andesite Lo sappiamo tutti Quindi io vorrei fare qualcosa di più carino Magari con quella pietra nera Che non mi ricordo come si chiama E la dovevi andare a cercare Il problema è che al momento non c'è nulla Quindi io direi che ora possiamo fare Una spedizione punitiva qua giù Cercando dei blocchi più carini Per fare qualcosa Tipo qua vorrei fare tutta una bella piattaforma Qui magari delle scalette Qua come abbiamo detto Facciamo una colonna con un arco Che chiude il magazzino Tutto con sto blocco scuro Mettiamo un po' di lucette in giro E poi iniziamo a capire Cosa mettere in queste ceste Il magazzino Credo proprio che dovrebbe bastarmi Nel caso possiamo fare una cosa Molto più caruccia Cioè aggiungiamo Una linea di ceste Tipo qua Così Ecco qua Poi nel caso mi dovesse servire Altro spazio Posso aggiungere Un'altra linea di ceste Lì su Oppure Allargarmi là Però penso dai Che ce la dovremmo fare Insomma Che cavolo ragazzi C'è un sacco di roba In teoria Dovremmo stare a posto Allora mi vado a preparare Un attimino per questa spedizione Ci buttiamo sottoterra Che dobbiamo fare? Abbiamo dormito Ci possiamo togliere un po' di roba Intanto qua Magari metto pure Un'altra ceste Perché sono un po' Accorto di spazio Lo so che ho messo Le ceste lì giù Però Al momento Non ho voglia di scendere Quindi buttiamo Sta roba qua Con molta eleganza Ecco Forse è questa La pietra che cercavo La cobblestone Deep slate Dovrebbe essere Proprio questa qui Che cosa si poteva fare Con la cobblestone Deep slate? Questi? Sì Sono esattamente questi Che volevo usare O voglio usare Proprio questo tipo di blocco Che mi piace un casino Per fare Le rifiniture del magazzino A me piacciono molto I colori scuri Di solito usavo La legna scura Il dark oak Esattamente questo Però Visto che Abbiamo pure questi blocchi Secondo me Sarebbe carino usarli Quindi devo solamente Prendere un sacco Di questa cobblestone Deep slate E la trovo In profondità Suppongo È deep slate Altrimenti Quindi mi preparo Un attimino tutto E scendiamo Sperando di non morire Malissimo Ok Ho solo bisogno di cibo Ragazzi Perché sono veramente A secco di cibo Mi sono fatto Tre picconi Asce Pale Insomma Dovremmo avere tutto A parte il cibo Qui è cresciuto qualcosa Ne dubito fortemente Teoria questa No Sta era ancora piccola Ok Niente Non mi ricordo manco più Come distingue la roba Che è cresciuta Da quella che non è cresciuta Andiamo benissimo Allora Lì giù vedo un po' Di animaletti carini Che secondo me Si prestano benissimo Per la funzione culinaria Eh si Ok Ecco facciamo strage Ragazzi Lo so Mi dispiace sempre Ammazzare gli animaletti Però Bisogna Necessita Quindi proprio Senza esclusione di colpi Qualsiasi cosa Respira Noi la secchiamo E ce la mangiamo Eh Non possiamo fare altrimenti È la legge della giungla Vince il più forte È sempre così che funziona Ora secchiamo pure questi qua Un giorno me ne pentirò Di aver fatto questa strage Quando mi serviranno degli animali E dovrò andare Lontanissimo Per cercarli Però per il momento Non ci creiamo questo problema E prendiamo tutto quello che si muove Ok direi che abbiamo preso un bel po' di cibo Lo cociamo E ci buttiamo giù Per adesso lo smoker Me lo posso pure fare Eh che cavolo Ce l'ho il log di legno Quindi ce lo facciamo Vediamo se mi ricordo Il craft dello smoker Senza andare a vederlo Allora Secondo me Si faceva così Ta 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 E ta Eh Mamma mia Ancora qualcosino ogni tanto Me la ricordo Per il momento lo mettiamo qua Eh purtroppo Ciao torcia Uno qua e uno qua Perfetto Buttiamo questa roba qui dentro Così E ci mettiamo un po' di carbone Così Perfetto Signori Andiamo in cerca di Deep cobble Come si chiamava quella Non mi ricordo Tipo questa Dovrebbe già essere quella che cerco io Infatti Nel mentre ci prendiamo pure Altra roba Ok Il primo piccone ci ha salutato Ma era ovvio Raccogliamo anche qua Perché secondo me Alla fine Il contrasto che fa Questa pietra nera Con la pietra normale Poi con il legno del magazzino Secondo me Dovrebbe venire una cosa Molto carina Solo che me ne servirà Un bel po' Intanto mi prendo pure Altri minerali Che schifo non ci fanno Solo che sta pietra È tostissima Sarebbe l'ideale Avere un piccone di diamanti Io ce l'ho i diamanti Ma ve l'ho già detto Ce n'ho solamente quattro Ed è un peccato Sprecarli per fare un piccone Non incantato Cioè proprio Uno schifo Quindi preferisco andare Col piccone di ferro Ci metterò più tempo Sicuramente Però almeno Mi risparmi i diamanti Poi Se dovessimo trovare Altri diamanti Cosa che io spero Tantissimo E allora Il discorso cambia In quel caso Ci facciamo un sacco di picconi E scaviamo felici Beh comunque Ne sto trovando un sacco Già qua A che altezza siamo? Qui siamo ad altezza 3 Una volta qua C'era la bedrock Cioè mamma mia Cioè io mi ero preparato Tutti i picconi Il cibo Come se dovessi Sperdermi nel centro Della terra E praticamente Sto a uno sputo Dalla base E c'ho tutta la pietra Che mi serviva Voglio dire È stato un po' inutile Fare quello che abbiamo fatto Diciamoci la verità Però Insomma Se butta niente Ce lo troviamo già fatto per dopo È un altro piccone andato Amici miei Eccoci qua Sto sempre dove stavo prima E non mi sono spostato Cioè proprio C'è tutto quello che serve qua Pure il ferro Allora ragazzi Io penso Di avere abbastanza materiale In teoria Spero Vediamo un attimino Se è vero Questo che cos'è? Ah sempre quello Va bene Allora Risaliamo un attimino su Se andava di qua Sì tanto Voglio dire Mi sono spostato Di 20 metri Ecco qua Era da qui Che si saliva? Sì Dove sta il mio magazzino? Di qua Sicuramente Qua c'è del carbone Che al momento Non ci serve Allora Ora dobbiamo decidere Lo stonecut me lo sono portato No L'ho posato su Benissimo Lo devo andare a prendere Ed eccoci qua di nuovo Allora Questo lo mettiamo Da qualche parte Tipo qua Sento una presenza Malvagia Infatti Eccoli Addirittura in due Vengono questi Allora Su Forza Su Cosa vuoi? Non è anche tu Ti meno Un'ottimeno Un'ottimeno Perfetto Allora Vediamo un attimino Che cosa viene fuori Con sto attrezzino Qua O La Mo Devo scegliere Quale tipo di blocco Fare Eh Non è una scelta facile C'è la Polished Ne prenderò Uno Questo Ne farò Uno Giusto Ci facciamo un'idea No? Basta Non ce ne sono altri Perfetto Vediamo come vengono Questi blocchi Allora Uno Due E tre Ne posizioniamo Due Due E due Quali di questi Scegliere? Mmm Questo è più scuro Questo mi ispira Molto di più Penso proprio che decido Questo Che cos'è? Deep Slate Tab Va bene Prendiamo questo Allora facciamo In questo stile qua Quindi Deep Slate Tile Ne farei Vabbè Intanto facciamo Questi qua Che andiamo A sostituire Il pavimento Qui Inizialmente Quindi Ovviamente Devo scavicchiare Un po' così Tolgo pure Questi qua sotto Che altrimenti Fanno schifo Del carbone Che fai? Non te lo prendi? E vabbè Però è esagerato Cioè non era del carbone Era una miniera di carbone Questa qua Cioè 58 pezzi di carbone Io mostro buco Con cosa l'otturo Che non ho tutti sti blocchi Porca miseria Vedi? Poi succedono Queste cose Che uno non è preparato E resti con i buchi Beh tanto Devo scavare questi Quindi userò questi blocchi Per riempire quel buco E un altro piccone Ci saluta L'ultimo piccone Mi è rimasto Porca miseria Ma Cioè voglio dire Qua la roba Va via come il pane Ok Ho otturato Il buco Perfetto Iniziamo a posizionare Questi bellissimi blocchi Eh vedi che già Prende un'altra faccia Ora dovrei fare Anche i gradini Di questi Deep Slate Tile Li posso fare Esistono? Non lo so Vediamo Deep Slate Tile Stails Ne faccio Anche 64 di questi Così l'inizio pure A mettere qui Vediamo un po' Che effetto fa Beh si L'effetto è bello Dai E c'era un altro buco Ok Perfetto Ora devo fare tutto Fino sopra E niente Ci vediamo tra un po' Signori Non vi nascondo Che è un po' una palla Fare questa cosa Eh diciamocelo Non è proprio il massimo Del divertimento Anche perché Non posso lasciare Sti blocchi così Vedete Fanno schifo Quindi devo per forza Andare pure a sostituire Questi Uno ad uno Quindi devo scavare Sostituire Scavare Sostituire E' un lavoraccio Però voglio dire Se vogliamo una cosa Fatta bene Dobbiamo andare a vedere Anche questi piccoli Particolari qua E quindi Mi tocca fare anche questo Vabbè comunque Tutto sommato Non è tanto palloso Perché alla fine Uno si sposta lateralmente Così Rompi questo Rompi questi E poi li sostituisci Dai Pensavo peggio Effettivamente Non è proprio così palloso Certo Poi se finisci i blocchi De li devi andare di fa La cosa è un po' scocciante Infatti li ho finiti Ok ragazzoli Ho finito Almeno questa parte E viene carino Dai Diciamoci la verità E' molto più bello Anche se però Poi ho notato Che dietro le ceste Si vede Che ho messo le slab Quindi probabilmente Qua dovrò andare A riempire con questi Per non far vedere Proprio Sto buco orribile Schifoso Però vabbè Per il momento Lasciamo così Quindi Mi toccherà fare Tutto l'interno E poi qua Dobbiamo fare Quel famoso arco Però non credo Che lo faremo stasera Perché sto registrando Da un'ora Sicuramente ci saranno Un sacco di tagli Che abbiamo scavato Tagliato legna In ogni caso Nel prossimo episodio Sicuramente Finiremo il magazzino E penso che ci potremmo Anche iniziare A trasferire Qua sotto Ragazzoli Spero che il video Vi sia piaciuto Vi do la buonasera E ci vediamo Al prossimo episodio Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti